Per Bagnaia è il quarto errore dell'anno. Ampiamente compensato dalle nove vittorie ottenute finora. I dati telemetria sembrano indicare anomalie a livello temperatura della temperatura gomma. L'inclinazione della curva. L'apertura del gas pecca.in. Ducati escludono che c'era petrolio in pista. Invece secondo Binder c'era qualcosa. Ma parliamo Aprilia. Perché è incredibile come la situazione sia stata annullata in alcune gare. Un anno fa. Alex ha presentato una serie di positivi risultati che lo hanno tenuto a lungo nella seconda. Posizione. Quindi. Verso il finale di stagione. La sua resa è calma. Al quarto posto. Quest'anno le cose funzionano a testa in giù e Alex ha iniziato a diventare molto forte in questa. Seconda parte. Attualmente ha già vinto tre gare contro l'unica dell'anno scorso. È un bravo ragazzo e sincero. Spesso si rompe le palle perché non lo fa inviali a dire. È onesto. Quando vince. I suoi gemelli invadono la traccia per celebrarla. Chissà a quel quando pensano in quegli anni. Hai in mente come funziona. Giusto? Non ricordi i dettagli. Ma è qualcosa di bello. Dirasserente. Un anno fa. Il padre ha inviato a scopare un secondo posto. Così gli hanno ricordato contando bene i giri e li contava così bene che ha vinto la gara.